E' stato raggiunto lo storico obiettivo di 1.100.000 firme sottoscritte da cittadini europei per chiedere alla Commissione UE di estendere l'obbligo di indicare l'origine di etichetta in tutti gli alimenti. La campagna con slogan Mangia originale, smaschera il tuo cibo, è stata promossa da Coldiretti insieme ad altre organizzazioni europee. Si tratta della settima petizione sulle 48 presentate finora. Per essere valida doveva superare una soglia minima di adesione di almeno 7 paesi. Un successo ottenuto soprattutto grazie all'Italia dove sono state raccolte l'85% delle firme. Tommaso Di Sante, battaglia vinta, che cosa succederà adesso? A livello comunitario abbiamo bisogno di risposte, quindi con questa firma IT Original, ICE, cioè un'iniziativa di collettiva europea, abbiamo la possibilità, avendo superato il milione di firme, che questo diventa in regge. Di fatto abbiamo dei prodotti di non facile trasparenza sullo scaffale, perché le uova hanno l'origine, invece gli uovo derivati no, abbiamo della carne, invece i salumi no, quindi di fatto vogliamo una trasparenza generale a 360 gradi. L'Italia è avanti da questo punto di vista, dal punto legislativo, l'Europa no. Abbiamo paura che grandi lobby agroindustriali possano andare contro, remare contro la trasparenza, alla identità, all'origine. L'Italia e il consumatore vincono grazie alla consapevolezza di ciò che hanno a tavola e l'agricoltura vince grazie alla distintività e la solubilità che produce. Di fatto questo è un passaggio fondamentale, un ringraziamento a tutte le nazioni che hanno partecipato, perché si parla di più di 7 nazioni, ma l'Italia è quella che ha raccolto il maggior numero di firme, quindi è quella che vuole di fatto la trasparenza. Anche i marchigiani hanno fatto la loro grande parte, contribuendo a questa importante petizione. Nella Regione Marche quante firme sono state raccolte? Abbiamo fatto un bel lavoro nella Regione Marche, di fatto avevamo un obiettivo di 40.000 firme, invece abbiamo raccolto 46-47.000 firme, quindi abbiamo superato gli obiettivi che ci avevamo prefissati. È un valore importante, di fatto la collettività ha risposto in maniera decisamente positiva. Questa è una questione che non riguarda solo l'agricoltura, ma nella collettività, nel consumatore abbiamo trovato un partner, un partner importante che vuole trasparenza. Questa raccolta firme va in quel verso, la trasparenza sui prodotti che arrivano sui nostri scaffali.